Innamorato di Costalta, il fotografo Domenico Pezzato ha allestito una mostra fotografica dedicate alle case di legno del paese comeliano a Treviso. Le immagini del paese di Costalta di Cadore varcano il confine della provincia di Belluno e sbarcano a Treviso grazie al maestro Domenico Pezzato, che ha presentato a Treviso una serie di fotografie realizzate con grande maestria nel paese del Comelico. Le fotografie enfatizzano con la tecnica del bianco e nero le caratteristiche case di legno e di tabià presenti sul territorio. L'intero processo di sviluppo e stampa è curato direttamente da Domenico Pezzato. Perché Costalta è bella, straordinariamente bella. Costalta è un paese a sogno, a favola, è un paese del libro di insomma. La mostra, intitolata Il cielo abitato, si svolge nel prestigioso palazzo di Francia, patrocinata dalla Fondazione Federpiazza. Voi avete, come l'ho sempre detto, un dono, che dovete dare agli altri. All'inaugurazione, presentata da Lino Bianchin, sono intervenuti Luciano Franchin, assessore alla cultura del Comune di Treviso, Giovanni Tosello, presidente della Fondazione Federpiazza, Pietro Lorenzon, che ha letto un saggio sull'artista, e Patrizia Rizzo, presidente di Costalta, che ha portato i saluti e i ringraziamenti per quanto fatto per la comunità di Costalta. Al termine della cerimonia, il folto pubblico intervenuto è stato allietato da una serie di canti mariani della tradizione popolare, eseguiti dal coro polifonico Valsile, diretto dal maestro Livio Schiavato.